Per esempio noi, non so come si chiamano, avevamo delle piccole cose che ci mettevano un laccio e c'era come una tortolina che girava, allora a questo punto cosa facevamo? Le lezzine che non sapevamo, compravamo, in siciliano si chiamavano strumbole, poi la compravamo grezza, poi dovevamo fare un chiodo così, dovevamo metterlo in quella palletta così, giravamo così con un laccio e la tiravamo così, allora chi sbagliava doveva mettere sotto la sua e quando la metteva sotto con un corpo si poteva squaccare la sua e lui doveva andare a comprare un altro e questo è un gioco, era questo, così giocavano i bambini. Ma non so, giocavate tra bambini, facevate bande dei ragazzi, facevate, non so, piccole battaglie tra di voi? Sì, a me una volta facevamo due pezzi di legno così e facevo una scherma, giocavo una scherma insomma, io gli ho colpito un terpetto, gli ho colpito lato e giocavano anche così. Dopo ci siamo comprati una macchina. E quando sono comparse le macchine? E nel 1969 io l'ho comprata una, nel 1969 l'ho comprata una. E abbiamo fatto, sono andato a lavorare da Fiumara di Perailo, sono andato a lavorare a Messina dove c'è stato il mio dottor d'autostrada per due anni, tre anni a lavoratore. I ragazzi andavano a giocare a pallone, tutti e due. Erano bravi? Tindolo era bravo. Tindolo lo voleva in Serie B, lo voleva ne giocare. Siccome giocava in promozione, a quei tempi la promozione era come la Serie C di oggi, era molto tecnico Tindolo, ma tecnico davvero. Tutti i giornali parlavano di lui perché segnava molte gol, faceva fare gol. e c'era il zio, che era marasciallo di Carabinieri, il fratello di mia moglie, era a Palermo. Siccome il Palermo era in Serie B, ci ha detto, senti, io ho un nipote che è un fenomeno a giocare a pallone. Che fa? Lo vuoi provare? Ci ha detto lui. Dice, dopo il giornale, e c'era scritto nel giornale, il segnale si è giustiziato con la mattina. Il segnale si è giustiziato, giustiziato significa che faceva perdere l'abbersario, no? Faceva dei gol. Dice, portalo, ci disse. Una volta, allora, una settimana prima, quando l'ha solta, cosa ha fatto? Giocava contro una squadra e perdeva 1-0. Questo cosa fa? Giocava sulla fascia, sulla fascia significante, Tazzino. Poteva giocare pure, giocava a Stoppere, giocava a Tazzino, giocava a Delgimonte. Giocava da tutto e tutto lui, tirava terzo e senisso. Per lui, di testa, era un fenomeno. Il ricorre, meglio Morteriore, che se ne andava, perché tirava tutto con una proiezione, a fredde palo, che non ne sbagliava. Dice, portalo, ci disse. Una settimana prima cosa ha fatto? Giocava con una squadra che perdeva 1-0, che era la prima in classifica. E questi erano i secondi. Prendeva 1-0. Dintro si ha preso la palla, non ci ha dato la palla a nessuno, si ha fatto a due. Quando arriva davanti c'era un stoppere. Lo stoppere è quello che... Ucenzale, che c'è oggi. Capisce il pallone? Sì, sì, sì. Come no? Ucenzale. Tirala. Mentre questo tira di sinistro, perché era tutto bene. Di sinistro. Questo fa la gamba tesa così, e ci spezzò la gamba. Si è sentito la botta da lontano. PAM! E' caduto per terra. Questo ragazzo non ha più giocato a pallone. Giocava, aveva una paura, cioè niente. Insomma, niente. Disse, non ce la faccio più. Siete dopo alla scuola. Intelligente era là. Intelligente è stato. Non lo dico io. Lo dicono anche i suoi compagni. Per ora, quando lui va a Brolu, che giocava in promozione. Che era serie C2 oggi. Sa cosa ci dicono? Dice, questa era la menzala più forte al mondo che c'era. Noi... Veramente. Tindove era un fenomeno. Poteva essere... Giocare in serie A e ci ne veniva in più. La serie A. Non ho avuto fortuna. Grazie a tutti.